buon pomeriggio a tutti è il primo di ottobre sono le ore 18 una diretta senza preavviso perché il mio lunedì è stato abbastanza complicato sono appena tornato a casa domani torno a roma ma insomma ci tenevo a non perdere la giornata anche perché ieri ho provato a fare la diretta dalla piazza di roma ma c'era talmente tanta gente che alla fine non si riusciva a prendere la rete e quindi abbiamo dovuto saltare prima di entrare nel vivo come al solito i soliti convenevoli la richiesta di piggiare sulla freccetta per condividere questa diretta o il video che ne resterà poi sul mio sito ivanscalfarotto.it sulla pagina facebook sul canale youtube e naturalmente appunto diretta o video perché se non riuscite a vedermi in questo preciso istante poi avete tempo tutta la giornata per domani ancora non sono in grado di dirvi quando ci vedremo perché domani giornata di ritorno a roma e quindi dipende anche dai lavori d'aula insomma appena so qualcosa cercherò di mettere sulla pagina facebook l'appuntamento di oggi ma veniamo a noi innanzitutto proprio perché ieri non sono riuscito a fare la diretta da roma ci tenevo a commentare con voi la giornata appunto in piazza del popolo devo dire come al solito in questi casi si comincia a dire quanti eravamo chi dice 25 mila chi dice 70 mila io penso che al di là del dato numerico ci fosse un dato che il colpo d'occhio diciamo così forniva senza possibilità di tradimenti la piazza era piena c'era tanta gente tra l'altro io sono stato anche dietro nel retro del palco e da lì si vedeva benissimo sulla piazza chi conosce roma sa che piazza del popolo è un po come una sorta di anfiteatro nel senso che ci sono le strade circostanti che abbracciano la piazza che vanno verso l'alto si vedevano persone anche appollaiate appunto in cima in cima ai la balconata che da sulla piazza e la stessa cosa c'era addirittura dietro al palco quindi tantissime persone devo dire anche moltissimo calore l'impressione che si aveva era esattamente il contrario di quella che i giornali vendono di di una opposizione timida o di una posizione assente mi sembra che il messaggio che è arrivato dal pd di richiamo verso la piazza per protestare contro un governo che sta facendo strame che sta facendo come dire sta distruggendo il principio dello stato diritto l'umanità la cortesia il garbo istituzionale il rispetto delle autorità indipendenti il legame con i nostri partner e alleati tradizionali le regole anche di buona tenuta dei conti di buona contabilità dello stato tutto questo io penso che stia facendo come dire si stia facendo strada nella coscienza delle persone e che se è vero che la narrazione dominante poi quella dei giornali dei telegiornali è fatta da tutta questa gente cazzuta che dice parolacce che offende e che fa della politica un gioco diciamo solo muscolare questa narrazione è un racconto che non esaurisce quello che il nostro paese io devo dire ne ho avuto la convinzione da sempre sin da 4 marzo da quando c'è stata la nostra sconfitta elettorale con tutta franchezza ho sempre pensato che non è che l'italia potesse essere impazzita che certo c'era stato un travaso di voti verso partiti diciamo così non tradizionali e con una piattaforma che mi vede lontanissimo però questo non significa che la buona italia l'italia delle persone per bene l'italia che abituata a ragionare discutere magari anche animatamente ma nella civiltà dei rapporti non è che quest'italia fosse improvvisamente sparita per cui fino a 4 marzo c'era e poi improvvisamente tipo dinosauri colpiti da un meteorite fossero spariti e credo che sempre di più adesso al di là delle appartenenze di partito ci sia una sensazione forte che bisogna reagire che bisogna proteggere lo stato di diritto lo stato liberale che non possiamo trasformarci né nell'ungheria di orban nella turchia di erdogan questo è un paese dalle solide radici e tradizioni democratiche siamo una delle più grandi democrazie del mondo un paese importante rispettato nel mondo e io penso che tutti noi italiani teniamo a tutto questo e non siamo disponibili a cedere sebbene ci sia una parte dell'italia che forse ritiene almeno per il momento che le cose debbano andare in un modo diverso dico almeno per il momento perché è evidente che le conseguenze di alcune decisioni che vengono prese in queste ore che sono state prese in queste settimane in questi mesi sono conseguenze che poi incidono sulla vita delle persone sappiamo che dopo il decreto cosiddetto dignità quello che io chiamo decreto disoccupazione molte persone non si sono viste rinnovare i contratti ma vedrete che se davvero la diciamo la manovra economica prevederà quello che si sta leggendo quindi il deficit al 2,4 per cento le cose non saranno per niente semplici chi pagherà sarà la potezza del proprio popolo sapete che andiamo incontro a un congresso io mi auguro che questo congresso sia il più ordinato e il più sostanziale anche il più basato su sulle idee possibile abbiamo una grande responsabilità e questa diciamo così va esercitata nel migliore dei modi quindi bene la piazza di ieri io in particolare ho amato del discorso del segretario martina l'appello alle donne italiane penso che sia estremamente importante sapete che c'è anche un disegno di legge pillon stanno succedendo cose strane e questa è una destra che è sicuramente nemica anche dei diritti anche della parità di genere e che ha un modello per la donna un posto per la donna nella società che è tutto il contrario di quello che un paese laico e moderno come il nostro deve avere per cui bene ha fatto maurizio martina a fare appello in particolare alle donne italiane un appello al quale mi associo molto volentieri prima di andare a chiudere scusatemi se lo faccio ma credo che non si possa ignorare l'ultima gaff anzi gravissima gaff di rocco casalino questo signore che sembra il vero presidente del consiglio diciamoci la verità e incide molto di più lui nella cronaca politica del presidente del consiglio fantasma giuseppe conte io ricordo che quando ero ragazzo forattini disegnava goria come un personaggio senza testa ma se avesse conosciuto conte non so che cosa avrebbe fatto casalino invece uno che comanda che ordina che dà istruzioni alla stampa dice cosa devono scrivere cosa non devono scrivere ricordate quando martina e lapinotti furono fischiati a genova scrissi ai giornali dicendo voglio vedere se lo scrivete oppure no abbiamo già sentito dei suoi fuori onda ma il fuori onda di ieri ricordate quello sui tecnici del ministero dell'economia che stavano mandati via e questa sarebbe stata la campagna del movimento 5 stelle per il 2019 ma quello di che è uscito oggi è veramente molto brutto perché lo avrebbe mandato casalino si sente la sua viva voce l'avrebbe mandato a una decina di giornalisti chiedendo loro di non importunarlo più perché lo stavano chiamando tantissimo nell'immediatezza del crollo del ponte di genova il 14 agosto e casalino dice ah ma insomma lasciatemi stare io vi sto già mandando la notizia non è che mi potete chiamare continuamente qui già mi sono fregato ferragosto e san rocco perché poi notare che san rocco è il 16 di agosto io lo so perché il mio compleanno e quindi evidentemente casalino era molto preoccupato di perdersi i festeggiamenti del proprio onomastico e quindi dice basta insomma non mi stressate la vita senza pensare che chi dedica appunto chi assume una responsabilità a palazzo chigi a qualsiasi livello sa benissimo che per quegli anni quando stai al governo non ci sono né sabati né domeniche non ci sono ferragosti e natale bisogna stare sul pezzo essere presenti e quando crolla un ponte ci sono 43 morti il fatto di pensare al ponte delle proprie vacanze è veramente una cosa indegna io non so davvero come definirla che cosa che cosa pensasse quest'uomo è non soltanto un gesto di come dire di grande irresponsabilità di grande insensibilità rispetto a quello che era successo a tante vittime ma anche un modo come dire sbruffone è un modo superficiale di gestire le cose anche di pensare a quello che è il ruolo di chi ha una responsabilità così importante sapete poi che si era fatta tanta discussione sullo stipendio di casalino il quale ha detto io guadagno tanto perché lavoro tanto questo fa venire anche un pochino di rabbia in più perché evidentemente va bene lo stipendio sostanzioso ma poi se dice qua è chi mi tocca ferragosto e san rocco perché poi le cose così non vanno io trovo che sia ripeto al di là poi di tutto sia proprio un si esprime una concezione proprietaria delle istituzioni che veramente non si non si sopporta e penso che in un paese diciamo mediamente consapevole dopo una scena del genere è casalino sarebbe stato cordialmente invitato a tornare a casa invece pare che sia stabilmente al suo posto noi abbiamo però sentito appunto tutto questo dalla sua viva voce io penso che questo paese prima o poi si sveglierà dal torpore che lo avvolge e dell'indignazione sorgerà io mi sono indignato comunque mentre sono le 18 e 11 io quindi mi fermo qui come ho detto non sono ancora in grado precisamente di dirvi quando ci vediamo domani però ci teremo moltissimo a esserci oggi vi ringrazio di avermi seguito vi chiedo come al solito di pigiare sulla freccina del condividi in modo tale da fare in modo che anche altre persone possano vedere il video di questa diretta che resta sulla mia pagina facebook sul canale youtube e sul sito www.ivanscalfarotto.it non mi resta altro che augurarvi un'ottima serata del primo ottobre qui a milano è arrivato il primo fresco il primo la prima sensazione di autunno chissà come va nel resto d'italia ma insomma che sia una buona serata buon lunedì e buona settimana a tutti ciao